Questa farfalla arancione è un tabacco di Spagna, il nome scientifico è Arginis Pafia, sta sortendo in ettere da un cardo, anche se non è una Vanessa del Cardo, ma lo stesso appartiene alla famiglia delle Nifaldi e come tutte le farfalle appartiene all'ordine delle pilotteri. Il suo bruco è spinoso, l'ho scoperto su internet, è tipo quello delle Vanesse. Addio! Farfalla Renza!